Continuiamo la rilettura e lo studio di Repubblica delle stragi impunite di Ferdinando Ipposimato, i documenti inediti dei fatti di sangue che hanno sconvolto il nostro paese, della Newton Compton Editore. Vabbè, andiamo avanti. Grassi inquadrò così una pluralità di apparati impiegati in funzione di una guerra non ortodossa. Forse non sapeva se esse rispondessero a una sola centrale, sebbene inquadrasse in gladio tale struttura, richiamando la descrizione di Vinci Guerra. Questi parlò anche dei legami di Delfo Zorzi, che aveva ammesso contatti con un altissimo funzionario del Ministero degli Interni e che in Italia aveva operato un'organizzazione NATO alla quale sono riconducibili i drammi e le tragedie del paese che di volta in volta si avvalsa di organizzazioni secondarie o dalle stesse create. Ad esempio, la loggia P2 ha riferito che nel 1974 c'era stato uno scontro durissimo nella CIA, che aveva portato all'esclusione di Angleton. Disse ancora Vinci Guerra, teste che ovviamente Grassi definiva attendibile, che la strage dell'Italicus faceva parte della progressione che doveva portare allo stato di emergenza. Il giudice affermò per deduzione logica che tale strategia è stata elaborata per operare su scala mondiale e in particolare in quei paesi in Occidente più esposti ai cambiamenti di regime e alla presa del potere anche con mezzi democratici da parte delle sinistre, come l'Italia. È della strategia in questione. Gli Stati Uniti d'America sono stati più attivi fautori. Si ricordi che la sentenza del giudice Grassi, che solo per miracolo e dietro minaccia di ricorso mi procurai presso l'archivio di Palazzo Giustiniani, è stata di fatto tenuta segreta fino al 2011. In essa si parlava dei poteri dell'ambasciatore americano a Roma, che può richiedere, ma non dirigere, le azioni militari che si rendessero necessarie a sostegno del piano. Grassi riferiva questa strategia a Gladio. Inoltre aveva anche appreso dell'esistenza di una dipendenza diretta della CIA e della sezione SAD del Servizio Italiano, sezione che negli anni 60 e 70 gestiva la struttura SkyBand italiana. E dunque il giudice Grassi aveva inquadrato l'attentato dell'Italicus nelle operazioni Gladio. Come del resto si potrebbe includere in quella partita la strage di Piazza Fontana. Abbiamo finito il capitolo e adesso abbiamo finito il capitolo. Adesso iniziamo l'altro. Ecco qua, l'abbiamo finito. Iniziamo il capitolo 5. Eccolo qua. Iniziamo il capitolo 5. Il Calvario di Aldo Moro. Pensavo di essermi liberato dall'ossessione della prigionia di Aldo Moro con il libro scritto a quattro mani con Sandro Provisionato. Doveva morire. Chiare lettere 2008. Eppure molte cose restano ancora da chiarire. Ovviamente questa non può essere la sede di una lunga disamina sulla morte del presidente di C. Tuttavia non possiamo nemmeno mettere un fatto così grave nella storia della Repubblica Italiana. Come sappiamo più volte l'onorevole Moro era stato nell'occhio del ciclone per la sua partita a Partito Comunista Italiano e spesso si era sentito isolato nel suo stesso partito nonostante ne fosse presidente. Siamo nel 1978. Sono ormai passati quattro anni dall'attentata all'Italicus e certo non si è saurita la lunga scia di crimini che ha insanguinato l'Italia negli anni 70. Molte personalità in vista, magistrati, sindacalisti, giornalisti, gius-lavoraristi continuavano a essere uccise dalle versioni di destra e di sinistra e questa drammatica sequenza troverà un triste apice proprio nella vicenda personale dello statista Aldo Moro sequestrata a Roma in via Fani il 16 marzo 1978 da un comando delle Brigate Rosse. La guata avvenne alle ore 9. La corte d'assise di Roma individuerà in dieci componenti del comando assassino condannando quali responsabili materiali della strage Barbara Balzerani, Franco Bonisoli, Raffaele Fiore, Prospero Gallinari, Mario Moretti, Valerio Morucci, Bruno Seghetti, Alvaro L'Ogliacono e Alessio Casimirre oltre a Rita Angranati che, sottoposta a processo dopo una lunga latitanza, fu poi assolta. Nell'agguato furono barbaramente trucidati in cinque uomini della scorta.